Sindaco Alessandrini, ieri seduta animata in Consiglio Comunale, tre delibere passate in serata in attesa dell'assestamento di domani, però è stata un'altra giornata animata. Avrà questo rimpasto con l'ingresso in giunta della lista Teodoro e poi chi, se Veronica o Papa Gianni? Quante cose volete sapere? Bisogna rimanere collegati per vedere gli sviluppi. Io penso che il Consiglio Comunale, come l'attività politica in genere, non sia un pranzo di gala, per cui è normale che ci siano quasi un po' di scaramucce che fanno parte anche un po' del gioco delle parti di pirandelliana memoria. Ieri comunque sono state approvate delle delibere importanti e arriveremo naturalmente alla definizione dell'assestamento, che è un atto importantissimo previsto dalla legge. E oltretutto aggiungo che noi nel corso di questi tre anni di governo abbiamo fatto certo dell'attenzione dal punto di vista finanziario, una delle nostre stelle polari, considerando anche quello che ci siamo trovati ad ereditare. Poi si fanno naturalmente sempre relazioni e rapporti affinché si possa condividere con la maggioranza un percorso che vada nella direzione più fruttuosa possibile per l'interesse generale e superiore a noi tutti, che è quello di Pescara. C'è chi dice che l'ingresso di Veronica Teodoro sia un po' più gestibile in giunta rispetto a Gianni. Ma diciamo che su queste cose io credo che non sia utile parlare dinanzi alle telecamere, ci sono delle dinamiche politiche che vanno svolte nelle competenti sedi, voi rimanete connessi e certamente avrete aggiornamenti. L'ultima, veramente una battuta, è stata la porta sbattuta a un po' ridestare il Consiglio Comunale ieri sera. Ma io penso che ogni tanto le brutte correnti giocano degli scherzi e determinano suggestioni, per il resto tutta un'altra giornata in ufficio si dice in alcuni posti oltreoceano.